buongiorno nuovo blog allora questo blog avevo deciso che lo pubblicavo giovedì 31 ma dato che non riesco a pubblicarlo perché lo sto registrando adesso che oggi è mercoledì ovviamente devo registrarlo se no non riesco a pubblicarlo e essendo che il lavoro tutto il giorno per me è difficile montare subito il video e pubblicarlo subito giovedì per cui dato che avevo già montato un video il giorno dopo martedì avevo montato il video che voi lo vedete giovedì questo c'è in senso per voi già passato perché il video l'avete già visto però calcolate che ho cambiato il giorno cioè questo blog voi lo state vedendo sabato e il video il blog che in teoria doveva andare sul giovedì l'ho spostato lo sto mettendo per sabato perché se riuscivo a registrarlo prima e a pubblicarlo a montarlo magari era su per giovedì ma essendo che il tempo è poco non riesco più neanche a stare su instagram non riesco neanche a stare più su youtube infatti commenti che ricevo su youtube le richieste che sto ricevendo su instagram che adesso sono tante non so perché in più anche diciamo messaggi in privato che ogni tanto mi scrivete voi ma mi scrivono anche altre persone per diciamo chiacchierare un pochettino non riesco più a stare dietro tutto tra il lavoro che mi impegna tantissimo perché dal lunedì al venerdì lavorando proprio tutto il giorno dalla mattina alla sera cioè ho solo un'oretta di pausa per per stare in casa mangiare a fare le ultime cose che devo fare ma neanche quelle riesco perché poi alla fine faccio tante cose e mi riduco che poi non riesco a fare tutto e mi devo organizzare comunque detto questo come leggete dal titolo ho comprato la nuova cucina vi farò vedere il progetto adesso no perché io sto registrando di mercoledì di sicuro registro due giorni però tanto i questi due giorni che registro sono brevi perché non è che vi faccio vedere chissà cosa anche perché appunto lavorando in settimana non posso farvi vedere chissà cosa però volevo farvi vedere la progettazione che abbiamo fatto per la nuova cucina per cui domani che per me è giovedì se mai se riesco ve la farò vedere alla mattina se no ve la farò vedere venerdì prima di sabato questo video deve andare su perché poi dopo sabato e domenica farò l'altro blog dei lavori in corso della casa che poi metterò su martedì per cui dato che volevo far vedere volevo farvi vedere la nuova progettazione di questa nuova cucina che abbiamo ordinato siamo andati a vedere la cucina nuova prima che ci davano le chiavi della casa e dato che ci vogliono più di 23 mesi che arriva la cucina e ovviamente devi ancora progettarla come si deve devo ancora scegliere bene i colori eccetera ho fatto solo questa progettazione ma ovviamente la cucina è stata comprata per cui vi farò vedere queste cose e parliamo della nuova cucina e poi vi volevo far vedere due tre cose sia della sephora che quelle che mi hanno regalato e basta per cui questo sarà un blog spero breve che è spezzato in senso che voi vedete un blog intero ma è come se io registro anche per due tre giorni per cui niente allora dato che tardi sono le tre qualcosa io devo andare a lavorare perché inizio alle quattro di lavorare e finisco alle nove per cui non riuscirò a stasera a finire a farvi vedere le cose anche perché buio poi già piove è brutto il tempo non si vede niente quale luci sono proprio c'è anche se accendo le luci fanno un po cagare un poche parole e niente per cui vabbè io direi che me ne vado e ci vediamo se mai domani che giovedì scusate se questo è un blog così ma è un po difficile vloggare in settimana per cui questo sarà l'unico blog che farò in settimana poi gli altri li farò sabato domenica perché non ce la faccio registrare a montare subito per far sì che va su in quel giorno che decido volevo anche avvisare che in questi in queste settimane dato che ho registrato un bel po di video vecchi ve li sto mettendo cioè vi sto mettendo quattro video a settimana tranne questa settimana qui che non sono riuscita ma quando riesco a pubblicare quattro video settimana e ve li metto su se ovviamente durano poco ve li metto tutte quattro se i video durano un pochettino che superano i 20 minuti giustamente ve ne metto massimo due tre video più o meno comunque voglio già avvisare dato che molte persone mi seguono ci tengono e vogliono ovviamente degli orari vogliono dei giorni stabiliti perché così almeno sapete sia a che ora esce il video e sia quando esce perché secondo me è più facile anche per voi comunque detto questo su sette minuti che sono già anche fin troppi ci vediamo dopo c'è per voi dopo per me domani ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un frappè che ho visto su Chiara Paradisi, che ho voluto provare anch'io. E niente, è buono ma anche semplice da fare. Perché ho messo il caramello, poi ci ho messo il latte, il caffè e la panna sopra con ancora un po' di caramello. Calcolate che il latte può diventare anche rosa, verde, blu, anche perché potete usare colorante e dovrebbe essere più bello. Io ho messo troppo latte, questo risultato non era come doveva essere, ma fa niente. Però è buono. Niente, questa è la mia colazione. Questa è la mia colazione. Ovviamente oggi che venerdì ho la giornata libera, in senso che ho lavorato tutto il giorno giovedì e dato che facciamo i turni, ho chiesto il venerdì di stare a casa tutto il giorno. Così almeno ieri che era giovedì lavoravo tutto il giorno, in poche parole, per cui oggi lavoro solo dalle 4 alle 9. Almeno così vi faccio vedere il progetto della cucina e spero che questo video non dura tanto, perché sennò... Niente, devo cambiare telefono, perché non riesco a vloggare con il mio telefono, tanto carino che mi fa gli scherzi e io non riesco a capire il motivo. Detto questo, registro con il Samsung, prima che lo spacco. Allora, io ho pochi giga su quel telefono, per cui anche per il fatto che mi si cancellano le clip, in senso che io registro le clip e poi ciao. Questo telefono fa una luce, mamma mia, forte, che è una cosa bestiale. Allora, vediamo se riesco a appoggiarvi sul cavalletto, perché mi fa mal la mano. Ok. Così almeno così. Almeno così non mi fa mal la mano. Iniziamo bene questo vlog, mamma mia. Allora, a prescindere che tutte le mattine che mi sveglio e che vado a lavorare, non so il perché, ma credo che per l'allergia, perché io sono allergica quando arriva marzo-aprile, la mia allergia si sente come non so mai, tra tosse, raffreddore, occhi rossi, occhi gonfi e più ne ha più che ne mette. Per cui, se notate, ho un po' l'occhio rosso. Lo dico adesso perché non si sa mai se sotto nei commenti, poi mi scrivete, ma che cos'è che hai l'occhio rosso, eccetera, eccetera. Per cui, vabbè, comunque, a prescindere da quello dovrò cambiare telefono, per cui ho deciso di prendere un telefono da 125 GB, che è superiore. Per cui diciamo che prenderò un nuovo iPhone che uscirà a novembre, prenderò l'iPhone 14, così almeno la qualità è migliore, tra foto, video, eccetera. E poi prenderò quello da 125 GB. So che l'iPhone nuovo costa sui mille qualcosa di euro. Tanto, vabbè, l'importante è lavorare, mettere soldi da parte, per cui se vuoi qualcosa, riesci a ottenerla. L'importante è guadagnare, fare sacrifici e le cose che poi vuoi, li puoi comprare assolutamente. Per cui, io ho notato che lavorando tanto, facendo tanti straordinari, che io ne faccio tanti di straordinari al giorno, perché hai la soddisfazione che, sì, ti fai il culo, però almeno puoi comprarti tutto quello che vuoi. Per cui, sto aspettando a novembre il nuovo iPhone nuovo che uscirà. Questo qui è l'iPhone 11 e, niente, volevo precisare questo anche perché nell'altro video mi avete scritto di quanti giga era il cellulare e poi perché non compravi una Samsung, eccetera. Io con i Samsung non mi trovo bene, mi trovo bene solo con iPhone e da quando io sono, da quando io ho avuto 18 anni ho avuto solo l'iPhone e voglio avere solo l'iPhone perché per me è il migliore e tantomeno come so usare di più con, diciamo, tutto quello che c'è dentro l'iPhone, so usare di più che usare il Samsung, eccetera. Tutto qua. Comunque adesso finisco, si scioglie la panna e vi voglio far vedere due o tre cose veloce e poi vi faccio vedere il progetto della nuova cucina. Allora, scusate se questo video non è un video dove andiamo in giro, dove vi faccio vedere, che ne so, andiamo in macchina, eccetera. Io adesso non so che video vi piacciono, cioè in senso i vlog. Se vi piacciono i vlog anche un po' chiacchiericci oppure anche sugli vlog dove vi porto con me in giro nei negozi, in macchina, eccetera. Per cui non lo so, fatemi sapere qui sotto. Massimo poi farò un po' un po'. Infatti, questo è il vlog che vedete sabato e poi dopo il martedì vedete l'altro vlog dei lavori in corso che faremo. Speriamo perché ancora mio fratello non mi ha fatto sapere niente. Allora, vi voglio far vedere dei campioncini che ho ricevuto dalla Sephora perché il 9 marzo, il prima del 9 marzo, sono andato a comprare un regalo. Allora, scusate la posizione, però questa è... non ho ancora fatto il letto e non mi piace far vedere il letto di sfatto. Anche perché mi sono svegliata alle 9. Comunque, poi non riesco a capire perché mi taglia la testa. Vabbè. Vi faccio vedere questi campioncini perché ho comprato un regalo per la mia cognata che faceva gli anni il 9 marzo. E mi hanno dato i campioncini, in più mi hanno dato il regalo del compleanno che io avevo fatto a gennaio. Solo che non sono andata a ritirarlo e allora, alla fine, me l'hanno dato. Per cui, quello del compleanno è questo qua. Sono praticamente dei patch che attacchi sul naso. Sono tre. Questi qua, neri. E l'ho aperti per vedere come sono. Sono tre di questi. Sono fatti così. Che tu attacchi il naso qua. Che ti tirano via i punti neri, eccetera. Vabbè, io non credo di avere niente. Però me l'hanno reglato per il mio compleanno. Allora, l'ho preso. Questo qua. Poi, invece per i campioncini, allora, ovviamente, dato che ho preso solo il regalo, che ho speso 50 euro di regalo, calcolate che i campioncini, cioè, me li voglio fare vedere adesso. Anche perché non ho niente della Sephora. E mi ha dato questo campioncino qua. Non so se lo vedete. Stranamente c'è il sole perché stanotte pioveva come non so cosa. Ed è questo, che è bello grosso. 10 ml, ma è anche bello pesante. In senso, contiene tanto dalla bustina. E c'è questo, che poi lo proverò, vi farò sapere. Poi, questo qui. Questo campioncino qua, della Clarins. Clarins, che è un fondotinta. L'altro, scusate, ma oggi non c'è. Allora, l'altro dovrebbe essere... Un... Ah, uno shampoo. Questo è uno shampoo viola. Cioè, io vi faccio vedere i campioncini, ma non vi dico che cos'è. Cioè, sono proprio scema. Vabbè, oggi è una giornata un po' a prescindere che non sto tanto bene ancora, perché da una settimana che non sto bene. Comunque, vabbè. Questi due campioncini e per finire questo campioncino, che dovrebbe essere un fondotinta a lunga tenuta. Questo. Questi sono i campioncini che mi ha dato la Sephora. Però, ovviamente, devo sempre chiedere io i campioncini, non me li danno loro, giustamente. Poi, vi faccio vedere il regalo che mi ha fatto la mia collega, il 8 marzo, che era la festa della donna. Avendo registrato altri video, non sono riuscita a farvi vedere queste cose. Per cui, questo sacchettino che mi ha dato la mia collega, c'era attaccata la mimosa, un pezzo di mimosa. E dentro, io voglio farvelo vedere perché è troppo bello, dentro mi ha regalato queste due cose. Il rossetto e la palette del tertio, che adesso li apriamo, li sgocciamo insieme. Allora, il rossetto è di questo colore qua, rosa. Cioè, è troppo bello. C'è scritto rossetto 24 ore. Ho fatto così. Allora, nella telecamera il colore non rende perché non è quello. Però, vi assicuro che è molto bello. E mi ha regalato il rossetto, che poi non so come ha fatto sapere che a me piacciono i rossetti. Anche perché questa collega qua, è da poco che la conosco. Per cui, cioè, ormai sono neanche un mese. E questa è la palette che la apriamo insieme. Fatta così. Questi sono i colori. Voglio provarne uno. Allora, sul dito sembra che scrive. Ma quando li metti qua, direi che non scrivono. Però sul dito sembra che scrive. Non lo so. O è la mia pelle. Comunque, vabbè, poi quando li metterò sugli occhi, ve lo dirò. Allora, puzzano. Hanno un odore un po' strano, puzzano. Non lo so se sono cinesi. Comunque, questo è 03. La palette 03. Però, chi se ne frega. L'importante è il pensiero e quello che ho fatto, sinceramente. Per cui, dopo aver visto questo regalo, cioè, io ci sono un po' rimasta perché ho detto, cavolo, io non gli ho preso niente per la festa delle donne. E tantomeno non la conosco perché ormai sono più di un mesetto neanche che ci conosciamo. Per cui, però, vabbè, è stato molto carino, molto gentile. Poi, una mia amica, dato che abita vicino a me, sotto qua, qua dove abitano i miei, praticamente mi ha regalato queste due tazzine per la casa. E io, allora, aveva due colori diversi e io ho scelto il nero. Sono carine perché sono fatte così, hanno il cuore e la scritta dentro, che però non so cosa vuol dire. È in inglese ed è fatta così. Vediamo se riesco a farlo vedere. Ok, così. Mette a fuoco proprio zero. Questa è molto carina perché una è nera, io l'ho scelta nera e poi l'ho scelta rossa. Vi faccio vedere. Rossa invece così, molto carina. E allora, all'inizio c'era col cuore ma tutta bianca, non mi piaceva. Poi ho detto, dato che siamo in due e mi piace il rosso e nero, anche per il fatto del Milan, allora ho pensato quasi quasi, anche per bellezza, sul comodino così, cioè sul comodino in sala, potrei mettere queste due tazzine. Tanto non hanno il manico e potrebbero starli così. Oppure anche mettendola vicino alla macchinetta sotto, secondo me è carino, e mi ha regalato queste due. Le altre due le ha tenute lei perché ovviamente ne ha comprate quattro e fa io tengo quelle due che sono bianche e tu prendi queste rosso e nero. Per cui questi sono i due regali che mi ha fatto e che mi fa sempre la mia amica. Poi iniziamo a farvi vedere il progetto della cucina. Allora, voglio precisare che scusate se il video dura troppo, ma poi quando mi metto a parlare io, lo sapete come sono fatta. Però, vabbè, dovete capire che quando ci sono i vlog, i vlog durano un bel po'. Comunque stringo, così almeno andiamo al sodo. Allora, io sono andata alla lube a ordinare la cucina. Ovviamente non posso, credo lube, non posso farvi vedere i documenti perché ho i documenti e le cose. Diciamo, per i nomi, eccetera. Per cui qua ci sono i fogli. E questo è il progetto della cucina che uscirà. Non vedo l'ora, sono talmente, mamma mia. Abbiamo scelto la penisola con i due sgabelli. Abbiamo preso l'induzione, che quello gas non mi piaceva anche per il fatto che quando avremo un figlio è più pericoloso avere i fornelli col gas che avere l'induzione. Così l'induzione sappiamo che il bambino non si fa male perché poi c'è un blocco che puoi ovviamente chiudere. Poi abbiamo preso il lavello grande, spazioso, enorme, con il manico che si allunga per lavare bene sia la lavastoviglie che i piatti. Poi tutti i scaffali da mettere dentro, padelle di tutto di più. E poi vi faccio vedere l'altro, che è fatta così. Sotto, no, non si vede, no, perché... Dove che lo... Vabbè, dopo ve lo... Sì, c'è la lavastoviglie, questa qua gialla è la lavastoviglie, e dentro tutte le mensole che abbiamo fatto. Così è, diciamo, come viene da dentro, in poche parole. Poi c'è anche il... Ah, eccolo. Non riuscivo a trovarlo. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte che cosa ho messo. Dove c'è la penisola, che ovviamente è attaccata al muro, perché non mi piace tenere una penisola che si stacca, deve essere attaccata. Ovviamente ci sarà il frigor enorme, quello americano. Io ho scelto il frigor americano enorme, con l'acqua, per cui quando ovviamente dobbiamo prendere l'acqua col ghiaccio, mettiamo il bicchiere e scende l'acqua col ghiaccio. E in più, di fianco, c'è il forno della Samsung, con il microonde della Samsung. Tutti gli elettrodomestici sono Samsung, ovviamente perché è una marca migliore, e si costa, perché costa. Calcolate, solo il forno mi è costato sui 1500 e qualcosa, anche di più. E dato che a me queste cose devono durare per tanti anni, e non voglio cambiarle, calcolate che queste cose devono durare tanti anni. La cucina dovevo in teoria pagarla 25.000 euro in totale, però mi ha fatto qualche sconto, e l'ho pagata di meno. Ovviamente non posso dire quanto l'ho pagata, perché anche sono cose private, però posso dire che tutta questa progettazione vale sui 25.000 euro di cucina. Anche perché forno, lavastoviglie, microonde, induzioni, lavabo grande, c'è praticamente tutto dentro della Samsung, e sono cose ovviamente di marca, allora vengono a costare così tanto. Però, allora qua c'è la finestra, perché questa è tutta la cucina. La cucina non è grandissima, però diciamo che quando abbiamo fatto questa progettazione è stata wow. Il colore non ve lo svelo, perché voglio che sia una sorpresa, e poi ve la farò vedere quando arriverà. Scusate se il mio cane è russa, ma non ci posso fare niente, sempre qua, attaccata, e non ci posso fare niente, per cui scusate. Comunque niente, calcolate che questa è tutta la progettazione della cucina, che verrà così. Io non vedo l'ora, perché guai, non vedo l'ora. Però niente, questa è quella che uscirà. E vi l'ho spiegato in breve. Calcolate che noi siamo andati, ah no, c'ho anche la data, il 15 di febbraio. Un mese, due mesi prima, che ci dovevano dare le chiavi, noi abbiamo deciso di andare a fare questo progetto per la cucina. Ovviamente dobbiamo scegliere tutto il colore di tutto. Vabbè, il colore della cucina l'ho scelto. È bellissimo, vi assicuro che è bellissimo. È un colore un po' diverso, che nessuno, diciamo, lo vuole in casa, però è semplice. Non è... E poi, vabbè, non ho scelto le piastrelle, ho scelto... Adesso mi viene il nome di quei tipo pannelli colorati bellissimi. Devo scegliere il colore e poi quando andremo lì in questi mesi vi porterò con me, spero, e vi farò vedere, diciamo, se riesco qualcosina, ma non so se riesco, perché è difficile. e però vi assicuro che quando l'ho vista e quando iniziamo a progettarla ci sono rimaste e che ho detto no, è quello che volevo. Da tanti anni volevo una cucina così, con una penisola, che ovviamente riesco a fare tutto. Calcolate che il tavolo non c'è. Ma perché? Perché abbiamo una sala enorme e con la sala enorme, col salotto enorme, ci mettiamo un tavolo che può stare per dieci persone in quel tavolo lì. In cucina faremo solo colazione, a parte che per adesso siamo in due, per cui faremo solo colazione nella cucina, lì sulla penisola, per quello che abbiamo messo due sgabelli. poi se non ho voglia di andare in salotto e spostare tutto ovviamente posso anche mangiare lì tranquillamente. Tanto quel tavolo lì, quella penisola lì va bene per due persone. E niente, questi qua sono i progetti. Ovviamente c'è i nomi e non posso farveli vedere perché sono cose private e poi vabbè c'è la cauzione, la fattura che mi ha dato, anche quella sono tutte tutte diverse. Se riesco vi faccio vedere il costo totale che dovevo pagarla, poi dopo che abbiamo fatto lo sconto e no, mi sembra che non me l'ho messo il costo totale. Perché in teoria mi dovevo mettere il costo totale del no. Questa è la fattura, niente. Pensavo che me l'aveva messo il totale e in più lo sconto ma non c'è scritto, c'è scritto solo quanto ovviamente la sto pagando. Ovviamente i prezzi sono ottimi perché quando siamo andati noi mi regalano anche tre cose che io devo decidere tra l'asciugatrice, lavatrice e l'aspirapolvere senza fili. Perché spendendo i soldi della cucina ti regala un oggetto di questi elettrodomestici. Io ovviamente ho scelto la lavatrice per cui quando arriverà la cucina arriverà anche la lavatrice della Samsung. L'asciugatrice la prenderò a parte per cui sarà un altro modello, non sarà una Samsung ma sarà un altro modello. Per cui calcolate che alla fine ho tutto della Samsung in più mi arriverà anche la lavatrice della Samsung insieme alla cucina perché non vedo l'ora voglio vedere com'è fatta. Ovviamente quando andrò a fare a scegliere i colori ovviamente poi mi farò vedere la lavatrice e sceglierò la lavatrice perché è la cosa più fondamentale che ci serve per il momento. L'asciugatrice può aspettare ma di più la lavatrice per cui grazie a a questo diciamo la lube creo io ho anche in omaggio la lavatrice gratis e niente questo è diciamo tutto quello che nella progettazione e tutte le cose che ovviamente arriveranno. Io l'ho ordinata per settembre però se riusciamo a finire i lavori prima ovviamente gli dirò di farmela venire di farla venire prima la cucina e non a settembre dipende tutto dai lavori perché io ho detto settembre per il semplice fatto che uno non ho fretta due per i lavori perché non so più o meno quanto ci mettiamo dato che lavoriamo solo a sabato o la domenica facciamo i lavori a sabato o la domenica e un po' così così comunque niente questo è tutto per cui vi ho svelato uno spoiler anzi uno spoiler perché alla fine avete visto tutto della cucina e questo è quello che sarà una cosa tutte le cose che volevo da piccola quando aiutavo mia mamma a scegliere la cucina che poi alla fine non gli piaceva quello che volevo io alla fine ha scelto tutto tu l'hai dall'altra cucina ma dopo quando hai una casa tua che puoi scegliere tutto quello che vuoi facendo tanti sacrifici mettendo tanti soldi da parte calcolate che diventa una cosa bellissima perché poi dici wow quello che sognavo alla fine piano piano si avvera per cui non lo so sono diciamo contenta di questa cosa e di tutte queste cose che piano piano inizieranno a succedere e cambiamo ovviamente vita perché è una cosa molto diversa per me tutto questo non l'ho mai fatta e adesso la farò va bene detto questo ho parlato troppo non so quanto è durato questo video io lo devo montare immediatamente stamattina sono già le dieci e mezzo devo montare subito questo video perché così lo vedete è un quarto del pomeriggio per cui è meglio che chiudo qua il vlog sono stata un po' troppo parlo un po' troppo quando faccio il vlog mi sto impappinando come sempre e mi impappino ogni volta che faccio qualche video detto questo finisco di montare questo vlog spero di riuscire a pubblicarlo alle due se no lo vedete alle otto di sera e andrò avanti a fare altre cose perché se no non mi sbrigo più devo fare ancora le fotocopie perché ci sono qua i fogli che dovrò compilare per fare la residenza la residenza andremo a farla lunedì per cui vi spoilerò anche che cambieremo residenza da lunedì e inizierà una nuova avventura piano piano ma arriverà detto questo ci vediamo al prossimo video spero che la cucina e il progetto vi piace fatemi sapere cosa ne pensate e e se vi piace come come diventerà questa cucina piccolina ma secondo me uscirà una bomba come sempre voluto e poi vabbè tutte le altre cose arriveranno piano piano io vi saluto la panna si è sciolta finisco di bere il mio frappuccino ci vediamo al prossimo video ciao